Iemelo intanto benvenuto a Lanciano. Grazie, grazie. Senti, sai che l'eredità è di quelle pesanti perché qui sono passati lo scorso anno Cerri e Monachello. Sì, ho seguito l'anno scorso parecchie pareti del Lanciano e comunque sì, ho avuto sempre dei brevi attaccanti che hanno sempre fatto bene. Senti, quali sono le tue caratteristiche principali? L'anno scorso ho giocato in un 4-3 come prima punta e come caratteristiche penso di venire spesso a prendere la palla e attaccare la profondità. Senti, le tue esperienze migliori sono state, se non sbaglio, a Vercellia ma anche a Foggia. Hai fatto molto bene. Che tappa è Lanciano? Sicuramente l'anno scorso col Foggia è stata un'esperienza importante per avermi lanciato in Serie B quest'anno con Lanciano. Quindi sicuramente dovrà essere un percorso che dovrà dare continuità. Arrivi dallo Spezia che deteneva il tuo cartellino ma com'è stata una trattativa molto complicata oppure avete trovato subito l'intesa? No, con Lanciano è stata una trattativa diciamo lampo perché il direttore Leone ha parlato con lo Spezia e abbiamo trovato subito l'accordo. L'obiettivo è quello della salvezza però avrai visto che nelle ultime due stagioni la Virtus ha sfiorato i play-off. Non c'è due senza tre però questa volta bisogna cercare di entrarci. Che dici? Sì, vabbè, sarebbe sicuramente un traguardo importante però penso che bisogna partire con i piedi per terra e pensare prima di tutto alla salvezza. Poi se possono venire anche i play-off, meglio. Sì, vabbè, sarebbe sicuramente un po' di più.